e allora dobbiamo portare dei saluti un po' lontano eh? Sino a Lecce per salutare da parte di Lenia il fratellone Federico eh poi diamo un bacio a Gabriele invece che è con lei e appena sento una bella canzone d'aula quindi poi tra l'altro noi possiamo effettivamente portare questi saluti ovunque perché tramite la rete eh ci arrivano spesso anche messaggi di persone che ci ascoltano dagli Stati Uniti ma è bellissimo perché basta cliccare sul nostro sito eh quello di Radio On Delibera c'è la possibilità di ascoltarci in qualsiasi parte del mondo sempre ovunque poi volevo salutare oltre a di Lenia anche Alessandro che aveva richiesto la canzone di Justin Timberlake Mirrors e lui si scusava per l'inglese ma l'hai scritto benissimo già e non hai fatto nessun errore quindi complimenti un bel dieci lode eh lode che piace tanto in generale no? Al nostro amico Alessandro poi altri che si scusava per l'inglese ma non hai fatto nessun errore